Il nostro giro alla scoperta dell'Istituto Idrografico della Marina a Genova termina qui, qui dove tutte le informazioni che vengono raccolte dall'Istituto poi convergono in una carta. Siamo in compagnia del comandante Carlo Marchi, che ringraziamo, proprio per parlare della cartografia. La cartografia, come accennava lei, è un po' il prodotto principe dell'Istituto Idrografico Aumento e Cartografico di Stato, che pubblica periodicamente queste carte nautiche, che sono dei documenti nautici a tutti gli effetti, che vengono utilizzati per la condotta in sicurezza della navigazione. Cartografia che tradizionalmente è di natura cartacea, le carte nautiche più comunemente note sono di natura cartacea, ma che ovviamente negli ultimi anni ha assunto anche una veste digitale. Come vediamo appunto alle nostre spalle. Esattamente, quindi cartografia digitale che, secondo la nuova normativa internazionale, è ormai obbligatoria a bordo delle navi, o meglio, dal 2012 è stata resa obbligatoria su un certo numero di navi e la completa implementazione di questa nuova ristrutturazione della normativa termina nel 2018. In realtà l'Istituto aveva iniziato con il lavoro, diciamo, di digitalizzazione già dal 2002. Sì, esattamente. Noi già dal 2002 abbiamo cominciato a pubblicare le nostre prime carte in formato digitale che rispondono pienamente a quelli che sono i requisiti della normativa internazionale dell'International Maritime Organization e ovviamente è stata un progressivo implementazione di questo nostro portafoglio che oggi ha raggiunto la sua piena operatività. Quindi abbiamo il 100% delle nostre acque territoriali coperte anche da cartografia digitale. Ma tornando invece alla cartografia classica, quella su carta, voi la stampate anche qui in Istituto, cioè la tipografia? Sì, assolutamente. Noi completiamo il processo di produzione cartografica anche con la stampa, per cui abbiamo tutta un'area dedicata appunto alle fasi di tipografia, per cui a seconda ovviamente degli orizzonti tecnologici siamo passati dalla stampa, quella definita comunemente offset, quindi con la sovrapposizione di varie matrici di colori, alla stampa, quella che viene chiamata oggi print on demand, che è la più classica, la più nota, cioè avere un file tipo pdf che viene poi di fatto inviato in stampa e con un plotter stampato in maniera molto più semplificata. E oggi è ancora obbligatorio comunque avere a bordo ancora le carte cartacee? Non necessariamente, oggi in realtà il quadro normativo consente le navi che vengono definite paperless, consente a queste navi l'impiego della sola cartografia digitale, rispettando ovviamente alcuni requisiti che diciamo sono complessi, ma comunque è possibile avere delle navi che non dispongano di cartografia tradizionale. E allora il nostro viaggio termina qui, grazie comandante, a questo punto non ci resta che tracciare la nostra rotta. Grazie a tutti.